Allora, 3, 2, Elena, tu qua ti vuoi aiutare? Ah, non si vede mai. Non si vede mai. Non si vede mai. Non si vede mai. Megliare sempre a mettere mai. John, John, lo conosciamo ormai. John, perché vedi? No, allora, come il contegno però, perché ci sono dei numeri che ci dicono, no? Sto parlando se ne avrete a parte, il sorriso che mi ha fatto fare. Beh, Elena, può fare a parte. No, lo dice, se ne avrete a segretario, lei non si può lamentare se chiede la separazione con la verità della signora. Perché, semplicemente, dobbiamo mettere in preventivo che la signora potesse trovare qualcosa. Quindi, perché... ...